Da oltre 15 anni, MediCenter Group è un importante punto di riferimento nel campo della diagnostica per immagini, nella fisioterapia e riabilitazione, in una zona strategica a nord di Roma. L'organizzazione puntuale e razionale si respira fin dal primo impatto con il centro. Il personale addetto all'accoglienza e dalle informazioni, preparato, competente e cortese, è in grado di fornire tutte le risposte e le indicazioni richieste, ottimizzando al massimo i tempi di attesa ed il sistema delle prenotazioni. Il centro si sviluppa su due edifici serviti da un ampio parcheggio privato. Uno dei due edifici è interamente dedicato all'attività di diagnostica per immagini, risonanza magnetica aperta e articolare, TAC multislice, radiologia ed ecografia. L'altro ospita invece i servizi di fisioterapia e riabilitazione, oltre ai vari studi medici specialistici. Il centro è aperto no stop dalle 7.30 alle 22.30 tutti i giorni, compresi sabato e domenica. Eccellenza delle prestazioni e costi contenuti sono gli obiettivi primari di tutto lo staff del MediCenter che con capacità organizzativa, spirito di gruppo, competenza e professionalità lavorano tutti i giorni per la vostra salute. MediCenter, l'eccellenza della diagnosi al servizio della tua salute. MediCenter, l'eccellenza della diagnosi al servizio del MediCenter MediCenter, l'eccellenza della diagnosi al servizio della saute Autore dei sorrisi